da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te benvenuti al meteo è sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati e dalla prossima settimana fiammata africana ancora più intensa vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno sul veneto avremo un ampio soleggiamento il cielo lo vedete si presenterà sgombro da nubi nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale sicuramente record per il periodo temperature poi roventi ben oltre la media stagionale minime tra 16 e 22 gradi massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso avremo tanto sole cielo in prevalenza sereno o al massimo velato temperature minime tra 16 e 22 gradi massime sui 28 32 all'incirca infine diamo uno sguardo la situazione del trentino alto adige anche qui dominerà il sole qualche nube di tipo alto ma innocua temperature minime intorno ai 18 19 gradi massime sui 33 34 all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento con antena 3 da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te grazie a tutti